ciao io sono paolo e questo è l'italiano in podcast benvenuti anche oggi al vostro quotidiano esercizio di ascolto e di comprensione della lingua italiana questo è l'episodio numero 425 di venerdì 11 febbraio 2022 anche oggi passiamo insieme qualche minuto anche oggi con lo scopo di aiutarvi a migliorare con il vostro italiano con la vostra capacità di ascoltare e capire quando un madrelingua parla e lo fa a una velocità abbastanza normale e con l'uso di un vocabolario abbastanza comune quindi questo è lo scopo di questo spazio questo è lo scopo dell'italiano in podcast ho iniziato questo esperimento quotidiano per dare a tutti voi del materiale con cui mettere in pratica le cose che studiate ogni giorno ascoltare è importante e anche cercare di fare questo in modo quotidiano è molto importante ascoltare spesso ascoltare cose diverse anche quindi non solo il podcast di ispichitaliano.it ma anche altri podcast perché no certo per avere una migliore capacità appunto di comprendere quello che diciamo quello che gli italiani dicono quindi ascoltate il mio podcast ma ascoltate anche il podcast di altri italiani ma oggi come sempre vi parlerò un po' della mia giornata e vi darò le principali notizie dall'italia quindi solo quelle più importanti quelle che sono delle prime pagine come diciamo noi quelle che tutti gli italiani conoscono tutti gli italiani che tutti gli italiani hanno sentito durante la giornata in chiusura come sempre un breve aforisma prima di salutarci oggi è la puntata del venerdì quindi è l'ultima puntata della settimana il podcast in realtà io mi riposo al sabato o almeno cerco di fare meno cose perché in realtà lavoro abbastanza anche nel fine settimana però il podcast si ferma per ricaricare un po' le batterie e per ritrovare anche un po' di spinta di stimolo parlare ogni giorno davanti a questo microfono non è facile devo dire la verità qualche giorno è facile qualche giorno un po' più difficile soprattutto quando operai e treni passano in continuazione o si muovono e fanno rumore in continuazione ma oggi sembra una giornata calma sto registrando la mattina presto ma è una mattina di sabato quindi meno problemi meno rumori meno treni meno operai almeno spero comunque il programma è questo vi farò un po' di compagnia oggi sarà un episodio un po' più breve perché davvero la giornata è stata molto semplice e anche le notizie non sono molte ma comunque prima di cominciare il mio consiglio è sempre lo stesso cercate un posto comodo un posto rilassante con pochi rumori con poche persone che vi disturbino e poi appunto cercate di approfittare di questo posto per trovare un po di calma di tranquillità e infine sintonizzare le vostre orecchie il vostro dito sul mio modo di parlare oggi mentre parlavo con un amico mi è venuto in mente un posto sbagliato per sentire il mio podcast questa persona mi ha raccontato che la mia voce è rilassante e qualche volta se è sera si addormenta ecco quindi per favore non ascoltate il mio podcast mentre guidate di notte vi prego perché questo mi ha spaventato molto come idea ascoltatelo se siete a casa comodi va bene e addormentatevi anche ma non non ascoltate il mio podcast mentre guidate di sera soprattutto tardi per favore ho paura di questa cosa bene scherzi a parte ovviamente quando avete sintonizzato le vostre orecchie sulla mia voce provate a prendere tutto l'italiano che potete a imparare nuove parole nuove espressioni ma soprattutto cercate di capire quello che io dico comprendere il significato di tutte queste parole se qualcuna sfugge non c'è problema alla fine tornate indietro quando avete completato l'ascolto tornate indietro e andate a riacchiappare a riacciuffare tutte le parole sfuggite o i modi di dire o le espressioni a quel punto con un po di ricerca trovate il significato se non lo conoscete e vedrete che saranno ben fissate nel vostro cervello e prima o poi entreranno a far parte del vostro del vostro modo di parlare l'italiano bene ma bando alle ciance bando alle chiacchiere vediamo un po che cosa è accaduto in questo mio venerdì 11 febbraio 2022 non troppe cose ma molte cose perché no ho usato un'espressione sbagliata troppe vuol dire sì diciamo diciamo meglio questa cosa non troppe cose interessanti nel senso di diverse di diverso tipo ma molte cose come molto lavoro anche questo è sbagliata perché le mie lezioni sono sempre interessanti quindi in realtà ci sono state molte cose interessanti perché ho fatto molte lezioni ma non ho fatto molto altro ecco ho fatto poche cose spesso le lezioni ma non molto altro di diverso oggi è un po complicato comunque dopo il podcast al mattino qualche giro veloce perché ero ritardo in questa settimana una parola d'ordine è stata ritardo l'altra è stato impegnato soprattutto nella seconda parte comunque un po in ritardo quindi velocemente ho fatto alcune cose perché avevo una lezione alle 9 del mattino e quindi dovevo essere pronto e quindi sono arrivato in ritardo ma solo di tre o quattro minuti niente di grave lezione molto buona molto divertente anche come spesso accade è una lezione ricorrente quando conosco meglio una persona parlo con questa persona da molte lezioni tutto è sempre molto rilassato e anche divertente spesso certo dopo questa prima lezione questa prima buona lezione sono uscito per prendere un po d'aria perché ovviamente sapevo che poi durante il pomeriggio soprattutto non avrei avuto molto tempo a causa delle diverse lezioni e quindi ho approfittato del tempo libero la mattina per una bella passeggiata in cui ho girato un po senza una meta per almeno un'ora più di un'ora e poi sono rientrato a casa per per lavoricchiare un po usiamo questo tipo di sistema per indicare quando facciamo qualcosa ma non al massimo aggiungiamo qualcosa alla fine no queste come in questo caso lavorare lavoricchiare per dire insomma che non ho fatto esattamente molte cose o cose troppo importanti ma comunque mi sono dedicato a fare un po di lavoro ho fatto questo fino a ho fatto anche qualche spesa a dire la verità sono uscito per qualche spesa veloce e poi all'ora di pranzo ho avuto finalmente il ritorno di angela con il nostro scambio quindi oggi abbiamo parlato italiano dopo aver saltato una settimana e questo mi ha fatto molto piacere è stato molto divertente come sempre e dopo angela una pausa per mangiare e vedere alcune cose un po rilassarmi anche prima dell'inizio di questo lungo venerdì di lezioni intanto vi avviso che la mia illusione di non avere rumori intorno è svanita e scomparsa sono arrivati gli operai anche di sabato e quindi spero di riuscire a completare questo podcast senza troppi fastidi se sentite qualche rumore mi dispiace ma purtroppo è così e dicevo quindi iniziato un lungo pomeriggio e sera di lezioni ne ho fatte sei dalle 4 del pomeriggio più o meno fino alle 11 e 30 della sera mi sono occupato praticamente solo di questo con qualche breve pausa in mezzo qualche breve pausa per riposare per riprendere un po il fiato e ripartire con le lezioni successive tutte le lezioni molto interessanti e con persone molto interessanti io ho questa fortuna non mi annoio mai però chiaramente alla fine della giornata era un po stanco e quindi non ho fatto altre cose ovviamente solo qualche ultimo giro di controllo prima di andare a dormire anche la cena è stata abbastanza veloce non avevo il tempo ovviamente di cenare ma davvero non non ho mangiato troppo anche per evitare di essere appesantito nelle ultime lezioni della sera e quindi non essere ben ben pronto ben sveglio mentre parlavo con i miei amici tutta qui la giornata di oggi tutto qui questo venerdì 11 febbraio 2022 pensate che non ho neanche avuto il tempo di aprire un pacco che mi è arrivato non ho avuto il tempo di giocare con questo nuovo oggetto che ho acquistato ieri online ovviamente su internet si tratta di un oggetto che è utile per fare dei video stabili quindi per tenere il telefono o la mia gopro quando voglio fare un video soprattutto all'aperto è un modo per avere una migliore impugnatura per tenere meglio la camera e riuscire a fare video un po più stabili non sono un fotografo professionista quindi la mia mano non è perfettamente ferma quando quando registro come ho detto altre volte devo fare pratica con i video devo migliorare non sono la mia specialità quindi ho bisogno di esercizio e spero di riuscire presto a fare contenuti migliori anche in questo campo in quello dei video mi scuso per i rumori ma purtroppo queste persone credono sia normale iniziare a lavorare il sabato mattina alle 7 del mattino davanti alle finestre degli altri non posso evitare questi rumori se voglio finire il podcast e quindi mi dispiace se sentite qualche martellata o qualche operaio che parla ad alta voce è un problema che devo risolvere ai miei operai io dirò sicuramente di non fare queste cose perché non sono cose da persone educate non si nota la mia frustrazione vero ecco sentite questo questo operaio deve essere molto molto preoccupato del fastidio che può dare alle persone intorno a lui a quest'ora del mattino comunque questo è tutto per quanto riguarda la mia giornata un po di pazienza e andiamo avanti vediamo invece quello che è successo in italia in questo venerdì 11 febbraio 2022 una delle notizie più importanti riguarda il presidente del consiglio mario draghi c'è stata una conferenza stampa per parlare di un'importante riforma che il governo affronta in questi giorni quella del consiglio superiore della magistratura è un organo importante della magistratura italiana e questo è anche un tema molto delicato da molti anni in questa conferenza stampa draghi ha anche parlato del suo futuro e ha escluso che dopo il 2023 quindi per le elezioni le prossime elezioni del nuovo parlamento lui possa essere ancora in politica quindi ha praticamente fatto capire che non sarà più presidente del consiglio e non si occuperà più insomma della politica attiva il ruolo da presidente della repubblica è molto diverso e per quello forse lui è ancora una soluzione possibile quando questa crisi sarà finita e mattarella molto probabilmente si dimetterà queste le indicazioni molto chiare di mario draghi sul suo futuro nessun impegno politico con nessun partito per le prossime elezioni la presidenza della repubblica è una cosa chiaramente molto diversa un'altra notizia di oggi è una protesta degli studenti nelle piazze italiane contro diversi problemi quello degli esami di maturità di quest'anno ma più in generale sui problemi della scuola diciamo per protestare un po contro i problemi della scuola in questo periodo ovviamente questo non è una cosa nuova più o meno ogni anno ci sono diverse proteste di studenti e professori ma sono loro ad aver ragione secondo me la scuola purtroppo spesso viene trascurata dalla politica che non da mezzi e anche organizzazione giusta a questa importante istituzione qui torno ormai è tutto un rumore non è possibile continuare senza evitare questo mi dispiace molto ma provo a finire lo stesso ultima notizia non covid è arrivato una medaglia d'argento è arrivata una medaglia d'argento nello snowboard a squadre miste quindi i nostri due atleti michela moioli e omar visentin hanno raggiunto questo importante obiettivo in queste olimpiadi invernali di pechino 2022 con questo è tutto per le notizie non covid e non ci resta che dare un'occhiata a qualche novità dal punto di vista delle regole per quanto riguarda il covid come vi avevo annunciato da oggi non c'è più l'obbligo di mascherina all'aperto bisogna portare una mascherina sempre con sé ma bisogna indossarla solo nel caso in cui ci siano assembramenti di persone e da stasera riaprono anche le discoteche le discoteche quindi possono tornare ad ospitare i giovani ma non solo i giovani tutte le persone che vogliono divertirsi un po' ma la capienza sarà del 50% cioè questi locali possono fare entrare solo il 50% del numero massimo delle persone autorizzate e si potrà togliere la mascherina solo nella pista mentre si balla queste le indicazioni e speriamo che finalmente torni un po' di normalità anche nel mondo del divertimento il bollettino di oggi invece ci parla di 67 mila nuovi contagi 334 sono le vittime e praticamente siamo arrivati a più di 10 milioni di persone guarite quindi un italiano su sei ha preso il covid ed è guarito il concerto qui fuori continua sempre più in un crescendo e questa era l'ultima notizia della giornata l'ultima notizia che vi do per questo venerdì la prossima sarà che sono andato in prigione perché ho strozzato un operaio davanti alla mia casa ma questa forse ve la daranno domani altre persone oppure state attenti ai giornali e forse la leggerete da soli scherzo ma capite bene che è un po' frustrante tutto questo il sabato mattina non dovrebbe essere così rumoroso a quest'ora del mattino il lavoro di operai vicini ad altre case ma questo è anche una parte dell'italia non solo dell'italia immagino ci sono persone poco sensibili alla tranquillità degli altri passiamo all'ultima parte del podcast di questo podcast cerchiamo di essere zen il più zen possibile e vediamo qual è l'aforisma di oggi la frase celebre dell'italiano o dell'italiana celebre di oggi la frase che ho scelto oggi è questa se pensi che un posto sia lontano parti e pensaci mentre cammini è la frase di un contemporaneo un personaggio contemporaneo vi invito a scoprire il nome dell'autore o dell'autrice di questo aforisma come sempre e di scoprire anche qualcosa in più sulla sua vita ce l'abbiamo fatta siamo arrivati alla fine nonostante il concerto fuori la mia finestra mi dispiace davvero molto anche per la mia frustrazione immagino che si possa sentire ma comunque pensiamo al fatto che è stata una buona settimana almeno io penso a questo è stata una buona settimana è finita finalmente è arrivato il fine settimana quindi un giorno di riposo un giorno e mezzo di riposo e io auguro a tutti voi di trascorrere un buon fine settimana di riuscire a essere zen anche in queste situazioni e quindi di passare delle ore tranquille serene per ricaricare le vostre batterie e ricominciare di nuovo la prossima settimana con più energia di prima auguro a tutti quindi un buon fine settimana ci sentiamo domenica sera quindi con l'episodio di domenica per il momento io vi saluto e ciao a tutti